Ora inizio l'incontro nascondino tra i musei, gli uffizi, Francesco Cataluccio. Buonasera, data l'ora tarda faremo una cosa breve, del resto era già previsto che questa sorta di gioco nei musei fosse una cosa breve. Breve perché come sapete esistono degli studi, non so quanto siano scientifici, che comunque la concentrazione di una persona in un museo non va oltre la mezz'ora. Quindi quando si visita un museo è difficile porsi come obiettivo quello di vedere tutto il museo, dopo 7-8 sale si è già saturi. Quindi io quello che propongo stasera e nelle prossime due serate è quello di invitarvi a vedere questi tre importanti musei, che poi vi spiegherò brevemente perché ho scelto questi, cioè stasera gli uffizi, domani sera Brera a Milano e l'ultima sera sabato le gallerie dell'Accademia di Venezia, di vederle in un tempo molto breve, di visitarle in un tempo molto breve e attraverso 6-7 dipinti e basta. Quindi una cosa che non stanca e che lascia poi non soltanto i piedi ma anche il cervello riposati. Ovviamente questa sorta di itinerario attraverso questi grandi musei è un itinerario molto soggettivo, cioè io ho volutamente scelto delle immagini che non sono poi quelle spesso quelle che uno si aspetterebbe da vedere, per esempio stasera agli uffizi non vedrete la nascita di Venere e la primavera di Botticelli, che sono due dipinti magnifici, Botticelli è uno dei più grandi pittori della storia della pittura mondiale, però volutamente li ho tralasciati, sono dipinti molto conosciuti, si vedono riprodotti mille volte eccetera eccetera. Io ho cercato appunto invece di attraversare gli uffizi andando anche a vedere, alcuni sono ovviamente opere imprescindibili, però andando a vedere anche immagini che spesso non si vedono, non si trascurano perché appunto spesso sono collocate in posti diciamo sì che non sono tanto accessibili. Dove tenere conto che gli uffizi hanno esposto i 1800 dipinti, quindi quanto ci può volere per vedere i 1800 dipinti? Quindi probabilmente una settimana insomma e anche in una settimana è un bel tour de force, tenuto conto tra l'altro che appunto gli uffizi perlomeno nella mattinata, diciamo sì fino all'ora di pranzo, sono straffollati da enormi gruppi turistici che seguono persone che gridano delle informazioni ed è difficile veramente godersi dipinti. Quindi gli uffizi chi se lo vuole andare a vedere o rivedere io consiglio di andarci nell'ora di pranzo, quando non c'è quasi nessuno perché tutti i turisti vanno a mangiare, oppure nel pomeriggio è sicuramente molto più semplice. Però ecco, anche una persona che si desse questo programma dovrebbe avere a che fare con un'ipotesi per vedere 1800 quadri di appunto una decina di giorni perlomeno. E quindi diciamo sì, noi faremo invece una cosa appunto in una mezz'oretta, 40 minuti. Gli uffizi, come sentite anche dal mio accento, è chiaramente un museo che mi è particolarmente vicino. Io ho vissuto, sono nato e sono vissuto 26 anni a Firenze, appartenevo a una famiglia diciamo sì, piuttosto cocciuta nell'idea diciamo sì, di far crescere me e mio fratello nella bellezza, nell'arte, eccetera, eccetera. E quindi insomma noi la domenica avevamo una sorta di rito laico, per cui mio papà e mia mamma ci portavano tutte le domeniche a vedere una stanza, appunto anche loro facevano delle scelte, una stanza soltanto degli uffizi. E si può dire che io dall'età di sei anni sono cresciuto con gli uffizi, nel senso che tutte le domeniche andavo a vedere una sala. E poi chiaramente alcune di queste sale le ho riviste poi anche a distanza di qualche anno. E quindi diciamo sì, mi hanno accompagnato nell'adolescenza, insomma. Poi ho cominciato ad andarci per i fatti miei. Ma insomma diciamo sì, fino a 14 anni, diciamo sì, io ho percorso queste sale insieme ai miei genitori che mi spiegavano. E queste loro spiegazioni mi sono rimaste attaccate addosso, cioè sono delle spiegazioni che mi hanno condizionato. Io poi ho anche studiato a un certo punto storia dell'arte. Però insomma queste prime impressioni mi sono rimaste attaccate in modo molto forte e ho dovuto anche, diciamo sì, alcune volte fare un grosso sforzo per cambiare idea. Dicevo che gli uffizi sono un museo che particolarmente per me si intreccia quindi con la mia biografia. Ho prima accennato alla nascita di Venere. Beh, la nascita di Venere, diciamo sì, se vogliamo toccare un elemento molto appunto personale, diciamo sì, io l'ho vista che avevo sei anni e mezzo, insomma sette anni, non mi ricordo esattamente il giorno. Però sicuramente è stata una rivelazione, una vera e propria visione. Dovete pensare che io mi avvio ormai ai 60 anni, quando ho visto la prima volta la nascita di Venere eravamo, diciamo sì, nei primi anni 60. Non avevamo la televisione in casa, insomma, io non avevo mai visto una donna senza vestiti, insomma, in vita mia. Insomma, ecco, la nascita di Venere è stata la prima donna, diciamo sì, senza vestiti che io ho visto. E quello che ricordo, ecco, che ci sono rimasto veramente un sacco di tempo, insomma, davanti, appunto, come si vede, è una cosa che non si è mai, nemmeno immaginata. E devo dire che, oltre ad ammirare, appunto, la bellezza di questa donna, che tra l'altro poi, se si va, diciamo sì, nel particolare, in realtà, come sapete, è stato dimostrato che la Venere di Botticelli ha anche un sacco di difetti, insomma, di pittura. Insomma, c'era un collo sproporzionato, dei piedi straordinariamente lunghi, un braccio più lungo di quell'altro. A Botticelli non ne importava niente, insomma, di questi particolari, insomma, lui puntava a un'idea altissima, insomma. E effettivamente quello che comunica la primavera è la bellezza, certo. Però, ecco, io, per esempio, devo dire che quella bellezza lì, quella donna rappresentata da Botticelli, appunto, mi ha condizionato, perché io per molti anni ho cercato quel tipo di donna, cioè, come per me ha funzionato un po' come un archetipo, insomma, no? Cioè, la bellezza era quella, doveva avere quel tipo di capelli, quel tipo di espressione, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo sì, quando poi ho cominciato a scrivere questo libro, appunto, che poi ho pubblicato l'anno scorso da Sellerio, appunto, La memoria degli uffizi, il mio rapporto con gli uffizi è stato un rapporto, diciamo sì, anche poi di andare alla ricerca del tempo perduto, cioè ricordarmi di tutto quello che io avevo visto. Ora, per introdurvi agli uffizi vi dico soltanto due cose che in genere non si dicano mai e che invece, secondo me, sono abbastanza importanti. La prima cosa è che, voi sapete che gli uffizi, questo enorme palazzo a forma di U sull'Arno, accanto al Palazzo Vecchio, è stato progettato da un grandissimo architetto che è Giorgio Vasari. Giorgio Vasari però non era soltanto un architetto, come succedeva spesso nel Rinascimento, era anche un grandissimo scrittore. E noi la prima, diciamo sì, la prima grande storia dell'arte che abbiamo in italiano sono le vite dei pittori del Vasari, che è tutt'oggi spesso l'unica fonte che noi abbiamo sulla vita e sulle opere dei più importanti pittori dell'epoca straordinaria che è stato appunto il Rinascimento. Vasari ovviamente, come tutti, aveva delle sue idiosincrasie, per cui molte sue notizie sono sbagliate, le persone che gli stavano antipatiche ci infilava tra le righe delle informazioni sbagliate, spesso lui stesso viveva per cose sentite dire, quindi non sempre tutte le informazioni che ci dà vanno verificate, perché non sempre sono vere. Per molti anni si è creduto delle cose perché lui ce le aveva dette, ma poi si sono dimostrate false. Però questa opera straordinaria, che è anche un'opera letteraria grandissima, perché è scritta in un linguaggio bellissimo, le vite del Vasari, è comunque una fonte fondamentale per conoscere i pittori e la pittura del Rinascimento. Ed è interessante che questo uomo che ha scritto la storia dei pittori sia quello poi che ha progettato questo palazzo bellissimo che sono gli uffizi, che inizialmente però non dovevano essere un museo, e questo è un altro problema. Cosimo I dei Medici, che gli aveva commissionato, gli aveva commissionato appunto accanto al Palazzo del Potere, cioè Palazzo Vecchio, gli aveva commissionato un palazzo dove ci dovevano stare gli uffici, diciamo sì, era il luogo della burocrazia del potere mediceo. Soltanto più tardi il figlio di Cosimo I, che era Francesco I, decise di trasformare questi uffici appunto in un museo, in un'esposizione di opere d'arte. Questo Francesco I è un personaggio di cui poco si parla quando si parla dei medici, ma in realtà è un personaggio straordinario, perché era un uomo che, dovete pensare, che si era fatto costruire dentro Palazzo Vecchio, che era la sede del potere, si era fatto costruire accanto a questo enorme salone che c'è, che è il Salone dei Cinquecento, che è il Salone appunto, tra l'altro affrescato anche dal Vasari, dove c'erano appunto, si riunivano, si facevano le riunioni, le feste, eccetera, eccetera, c'è una portiscina che quasi nessuno vede mai sulla sinistra, che conduce in una stanza senza finestre, una specie di stanza segreta, no? Questa stanza segreta era il gabinetto di Francesco I. Francesco I in questo suo gabinetto, appunto siamo nella seconda metà del Cinquecento, aveva fatto sistemare una sorta, quello che si chiama, di Camera delle Meraviglie. Nel Cinquecento andavano molto di moda queste Camere delle Meraviglie. Pensate per esempio alla Camera delle Meraviglie di Rodolfo II d'Asburgo, che stava a Praga, che aveva la sua enorme Camera delle Meraviglie, ma un po' tutti i potenti d'Europa ce l'avevano. Che cos'erano le Camere delle Meraviglie? Erano delle stanze dove il Signore amava rinchiudersi e che erano piene di tutto, di tutto quello che poteva meravigliare il visitatore. Quindi c'erano statue antiche, quindi oggetti legati all'archeologia, ma c'erano anche animali imbalzamati, cose strane. Quando poi viene scoperta l'America, le prime cose che vengono portate da là finiscono poi spesso in Europa nelle Camere delle Meraviglie. E c'erano poi anche orologi strani, manichini, c'era una sorta di grande accozzaglia di cose strane e meravigliose. Le Camere delle Meraviglie sono un po' all'origine dei musei nel senso moderno, cioè sono dei luoghi che poi diventeranno appunto delle grandi esposizioni. Nelle Camere delle Meraviglie però, spesso questi signori, e Francesco I non era diciamo così esente da questo, chiamiamolo così, passione, facevano anche delle pratiche, cioè si limitavano ad avere delle cose belle, di circondarsi di cose belle e curiose da far vedere agli amici, no, ma praticavano dentro queste stanze delle alchimie, erano un po' maghi questi signori, erano un po' degli alchimisti, insomma. E quindi raccoglievano intorno a sé spesso anche dei ciarlatani da tutta Europa che gli davano una mano appunto a provare a costruire appunto, una delle cose che si facevano più spesso era prendere degli animali appunto imbalsamati, imbalsamati, tagliarli e provare a fare degli innesti particolari e creare degli animali che non c'erano, insomma, no, tipo appunto, non so, un serpente con le ali, eccetera, eccetera. E facevano delle prove quindi di questo tipo qua. Quindi vedete che nel momento in cui nel 1581 Francesco I decide di mettere in questi uffici che sono stati svuotati dalle scrivanie e dai burocrati che ci lavoravano e decide di farci invece appunto una sorta di estensione, diciamo sì, di questa sua camera delle meraviglie, il suo progetto è quello appunto di mostrare per meravigliare, per stupire la gente. E chiaramente ci mette la sua collezione perché dentro la sua camera delle meraviglie c'erano anche dei dipinti e soprattutto ci mette appunto questi dipinti. Avete capito benissimo che quindi gli uffizi, come molti altri musei d'Europa, grandi musei d'Europa, non erano stati concepiti quindi appunto come un museo e quindi è difficile immaginarli come un museo nel senso moderno. Sono appunto un labirinto perché sono fatti di stanze di dimensioni diverse, collegate da passaggi che sono di fatto dei corridoi, che però sono anche quelli utilizzati. E quindi già questo vi fa capire come appunto sia l'idea che si è realizzata negli uffizi e che è stata mantenuta fino ad oggi è molto lontana dall'idea di un museo moderno come avremo noi. La seconda cosa importante da sapere è che gli uffizi, ma come molti altri musei importanti d'Europa, non hanno nessun criterio cronologico, né diciamo così nessun criterio di omogeneità. Cioè voi potete trovare in una stanza un perugino e poi trovare un altro perugino cinque sale dopo. Nessuno si è mai preoccupato di metterli tutti insieme. E lo stesso Botticelli che è un po' l'artista principale degli uffizi, ha sì una grande sala tutta dedicata a lui dove ci sono 23 tra le sue opere più importanti, ma poi trovate Botticelli anche in qualche altra sala. E nessuno ha mai pensato di portarle tutte in una sala. Perché è così, il museo si è allargato ed è andata così. Si è pensato che non avesse senso spostare le cose. Quindi si è creato dove c'era sposto, sono stati messi degli altri dipinti e uno quindi se amasse solo perugino, deve andare a zigzag tra una sala e l'altra. E non c'è nessuna indicazione che ti dice però guarda devi andare dalla sala 3 alla sala 7 eccetera. Ci vogliono delle guide chiaramente, però non è così semplice, è così immediato. L'altra questione che rende gli uffizi un museo molto molto particolare è il fatto che gli uffizi a un certo punto quando finiscono, cioè finisce questi tre corridoi, questa U che li caratterizza, poi c'era però a metà del secondo lato lungo di questa U c'è una porticina che purtroppo è sempre chiusa, però se uno appunto fa domanda eccetera eccetera gli viene aperta e questa porticina lo immette in uno strano corridoio che è il corridoio vasariano, prende il nome da Vasari, che passa sopra i tetti delle case, cioè esce dagli uffizi, passa sopra i tetti delle case ed è un corridoio che praticamente inizialmente univa Palazzo Vecchio attraverso gli uffizi, attraverso Ponte Vecchio, quindi si passava di là dall'Arno, poi attraverso una chiesa Santa Felicità, poi si passa anche lì di nuovo sopra i tetti e si arriva dall'altra parte nell'altro palazzo del potere dei Medici che era appunto Palazzo Pitti. Quindi c'è un sistema diciamo sì di collegamento tra Palazzo Vecchio, gli uffizi, questo corridoio vasariano che passa sopra Ponte Vecchio, per arrivare poi a Palazzo Pitti. A Palazzo Pitti c'è un altro museo che si chiama Galleria Palatina, che non è ancora più diciamo sì disordinato agli uffizi, perché la Galleria Palatina è stata mantenuta questa struttura delle vecchie quadrerie, cioè quadrerie che cos'erano? Delle esposizioni di quadri che nel 600 mettevano insieme tanti dipinti su tante linee, quindi c'è su 5-6 livelli voi vedete nelle sale della Galleria Palatina quadri importantissimi. Però appunto Palazzo Pitti in realtà non lo visita quasi nessuno, rispetto ai visitatori degli uffizi a Palazzo Pitti non ci va quasi nessuno, nessuno gli viene in mente che in realtà Palazzo Pitti fa parte degli uffizi, perché solo per darvi un'idea, il Palazzo Pitti è quasi più importante sotto certi aspetti degli uffizi per le collezioni che espone, perché appunto per darvi un'idea ci sono di Andrea del Sarto 18 opere, che non ci sono agli uffizi 18 opere di Andrea del Sarto, ci sono 13 opere di Tiziano, non sono poche, ci sono di Raffaello 10 opere, che non è poco, e così via, ci sono Fra Bartolomeo, c'è il fatto di Giulio II di Tiziano che è importantissimo, ci sono quali molto importanti, Rosso Fiorentino eccetera eccetera, quindi uno in realtà se volesse seguire veramente in modo completo il sistema degli uffizi dovrebbe cominciare dagli uffizi, farsi aprire il corridoio vasariano dove ci sono una collezione di ritratti, perché gli uffizi nascono inizialmente come collezioni di ritratti, e poi arrivare di là a Darno e sbucare la galleria Palatina dentro Palazzo Pitti e vedersi ancora qualcosa come 600-700 dipinti. Quindi ci si perde in tutta questa ricchezza di esposizione un po' confusa. Allora io il percorso che vi propongo stasera è un percorso appunto dicevo molto personale, che comincia con un quadro che vedete alle mie spalle, un dipinto, che quasi nessuno vede, perché appunto uno entra nella prima sala degli uffizi e si trova di fronte a Cimabue, Giotto, Duccio da Boninsegna, insomma è una sala straordinaria dove già solo quella varrebbe la visita, cioè vorrebbe uscire dopo aver visto la prima sala. E poi dopo questa sala si mette in un'altra saletta più piccola e poi dopo questa saletta più piccola c'è un corridoio, un vero corridoio stretto, che porta poi a un'altra sala più importante. E quindi la gente si ferma, vede che c'è in questo corridoio dei dipinti alle pareti, però li considera minori, dice se fossero stati dipinti importanti starebbero nelle sale più importanti, non in una sala di passaggio. E invece, secondo me, in questo corridoio c'è uno dei più bei dipinti del 300 ed è questa pietà di un signore che anche nel nome poverascio partiva male perché si chiama Giotto, quindi uno pensa Giotto, Giotto sarà un minore. Addirittura si pensava, fino a un certo punto, si è pensato addirittura che Giotto fosse figlio di Giotto. In realtà questo Giotto di Stefano, perché così si chiamava, non era figlio di Giotto, ma era stato a bottega di Giotto, quindi questo nome è anche giustificato dal fatto che lui era un allievo di Giotto. Un allievo di che però, per esempio, Vasari, ci dice molto chiaramente, insomma, nelle sue storie, che era molto meglio di Giotto, era molto più bravo di Giotto. Però Vasari, in fondo, era, se vogliamo, parte in causa, era abbastanza ancora vicino, diciamo sì, temporalmente. Però se prendete uno dei più grandi studiosi dell'arte del 300 e del 400 fiorentino, che è questo ebreo-lituano-americano, che era Bernard Berenson, che si stabilì a Firenze all'inizio del 900 ed ha giocato un ruolo straordinario, perché lui praticamente era quello che acquistava i dipinti per i grandi miliardari americani, per i grandi collezioni americane, e in pratica lui aveva un potere enorme, perché era quello che diceva questo è Giotto, questo è Fra Bartolomeo, questo è... cioè, aveva... era talmente importante, talmente conosciuto, talmente stimato, che aveva il potere di, diciamo sì, sancire la fortuna di un dipinto, oppure invece il fatto che questo dipinto appartenesse appunto a una scuola minore e quindi avesse meno valore. E Berenson stesso ha detto molto... ha scritto e ha detto più volte in modo molto esplicito che secondo lui Giotto è molto più importante di Giotto, è molto più bravo di Giotto. E perché era più bravo di Giotto? Chiaramente qui poi si va sulle impressioni personali, però il problema è che questo signore, come vedete anche da questo dipinto, aveva una caratteristica, un modo di dipingere, che Vasari definisce il dipingere denso, intensamente sfumato, che per la prima volta compare nella pittura italiana. E tra l'altro voi dovete tenere conto che i quadri, i dipinti, scusate, del 1200 e 1300, erano quasi tutti dipinti religiosi ovviamente, a tema religioso e pensati non per stare in un museo o per stare in un palazzo di un principe, ma erano pensati appunto per stare nelle chiese. E avevano un'altra caratteristica, oltre al fatto di essere appunto a tema religioso, il fatto di essere quasi tutti con questo sfondo d'oro, perché l'oro dava questa importanza, questa luminosità. Cioè, intanto era oro vero, cioè non era una pennellata d'oro, erano laminelle d'oro compresse sulla tavola, che poi appunto davano questo sfondo. La forza però di Giottino è il fatto che lui, questo oro non lo fa risaltare tanto, perché dà dei colori molto forti ai suoi personaggi. E quindi l'oro, rispetto agli altri pittori della sua epoca, è un po', diciamo sì, come una sorta di vero sfondo, ecco. E questo sfondo non serve a intimorire chi vede, ma anzi serve ancora di più a accentuare il contrasto tra il mondo, diciamo sì, della religione e il mondo delle persone. Questo dipinto, che appunto rappresenta Cristo deposto dalla croce, circondato appunto da sua madre e dai suoi discepoli, eccetera, eccetera, è un dipinto che ha una forza di... qui chiaramente non è che vedete tanto bene, ma comunque se poi vedrete una riproduzione più da vicino, o se convinti dalla serata di stasera andrete a vedere Giottino agli Uffizi, vedete che l'intensità di queste figure è straordinaria. Prendiamo l'esempio chiaramente di una delle figure più drammatiche, che è questa donna che sta alla vostra destra. Questa è Maria Maddalena, con questa veste rossa, questi capelli biondi, lunghi e molto scarmigliati. Ma quello che si vede quando si vede la tavola da vicino è che questa donna, e questa è una novità, nessuno l'aveva fatto mai prima, ha le gote rosse dalle lacrime, cioè le lacrime gli stanno arrossendo il volto. Ed è un modo veramente molto umano di raccontare il dolore. Qui c'è veramente un racconto del dolore molto molto intenso e molto umano, se vogliamo. Il problema di Giottino qual è stato? Il fatto che non c'è rimasto molto di lui. C'è questo dipinto agli Uffizi, ci sono due dipinti a Firenze che stanno in un posto ancora più sfortunato, perché stanno alla galleria dell'Accademia dove c'è il Davide Michelangelo, e quindi voi potete immaginare che la gente va a vedere Davide Michelangelo e non guarda cosa c'è nei corridoi laterali, nelle stanze laterali. E però ci sono altri due dipinti di Giottino, Madonna con bambino, che sono di una forza assolutamente straordinaria. e cos'altro si può dire? Cioè che Giottino insieme a un altro pittore che negli ultimi decenni si sta riscoprendo, che è Giovanni da Milano, costituisce veramente il passaggio dal Medioevo a Rinascimento. Cioè questa capacità nella pittura di parlare dei sentimenti. Ed è interessante anche il fatto che lui a un certo punto fu chiamato prima a Milano, i signori di Milano scoprirono questa sua grande capacità pittorica e lo invitarono ad andare a Milano a dipingere. Ed è interessante che lo racconta Vasari, è interessante soprattutto, mi fa venire un po' i brimvidi a me, che appunto sono un fiorentino che vive a Milano da 22 anni, perché dice che Giottino fu convinto, andò a Milano da Firenze, però se ne venne via dopo pochi mesi perché l'aria non era buona. E poi dopo insieme a Giovanni da Milano viene chiamata a Roma, va a Roma nel Vaticano e dipingono, affrescano un intero appartamento Vaticano che poi però purtroppo nei cambiamenti di gusto eccetera eccetera verrà completamente dipinto sopra e non si è mai ritrovato. Quindi l'opera dove i due si trovano assieme e riescano a produrre l'affresco di un intero appartamento non è rimasto nulla di questa loro grande opera. Proseguiamo quindi con il dipinto successivo. Questo dipinto l'ho scelto perché rappresenta bene uno dei problemi forti e anche appassionati della storia dell'arte. Questo è Filippo Lippi, Madonna con bambino e due angeli, del 1465. Filippo Lippi, non so se tutti lo sanno, era un frate. E qual è il problema di Filippo Lippi? Il problema di Filippo Lippi è che lui era il maestro di Botticelli, quindi lui ha insegnato a Botticelli a dipingere. Ovviamente come spesso succede l'allievo ha anche superato il maestro ma insomma diciamo sì c'è stato un periodo in cui i due dipingevano nella stessa maniera. Filippo Lippi, nonostante che fosse un frate, si era innamorato di una monaca che si chiamava Lucrezia Buti e da questa Lucrezia Buti che era pare una delle donne più belle tra Firenze e Fiesole ebbe un figlio che si chiamava Filippino, anche lui pittore. E Filippino a sua volta lavorò nella bottega di Botticelli. Quindi Filippo Lippi aveva Botticelli come allievo, il suo figliolo era allievo di Botticelli. Quindi questa triangolazione artistica ha fatto sì che intorno tra il 1450 e il 1465, quindi per una quindicina d'anni, ci sono stati tre pittori a Firenze che dipingevano nella stessa maniera. Quindi non è facile perché appunto deve tenere conto che ancora pochissimi dipinti venivano firmati. Quindi noi molte volte li firmiamo perché Vasari ci ha detto quello era di quello, ma altrimenti non c'è nessun documento che ci dice che quel dipinto è di quel pittore là. E tra Filippo Lippi, Filippino Lippi e Botticelli c'è spesso una confusione, nel senso che sembrano, non è facile dire che cos'è dell'uno e che cos'è dell'altro. Ma guardiamo questo dipinto. È una delle più belle appunto madonne che si è state mai dipinte. Appunto addirittura alcuni sostenevano che questa madonna e questo bambino paffutello con i riccioli biondi, anche questo raramente si è visto un Gesù bambino così prosperoso, così bello, così paffutello, così felice. insomma, siano in realtà appunto Lucrezia Buti e il figlio Filippino, che lui abbia rappresentato in realtà in questa immagine di famiglia, in realtà la propria famiglia. ma io la cosa che vi inviterei a notare è il fatto che vedete alle spalle della Madonna c'è una specie di cornice, in realtà è una finestra, ma, e questa è la grandezza di questo pittore, questa sorta di finestra di cornice divide il quadro come su due piani. Il piano più vicino a noi che guardiamo, dove c'è appunto la Madonna, il bambino, l'angioletto sotto e forse San Giovanni dietro. Quindi c'è, diciamo sì, la parte religiosa davanti. Dietro invece però, superata, diciamo sì, questa cornice, c'è invece la natura, c'è un'altra dimensione, una natura fatta di rocce, di un mondo, diciamo sì, naturale, dove l'uomo praticamente quasi sembra non essere arrivato. Ed è straordinario come lui sia riuscito attraverso questa cornice a dare non soltanto una profondità al suo quadro, al suo dipinto, ma anche a presentare uno di quelli che saranno i problemi anche filosofici del rinascimento. Cioè il rapporto tra la natura e l'umano, la natura e il divino, cioè come due cose, diciamo sì, che sono spesso in contrasto l'uno con l'altro. Il terzo dipinto invece è un dipinto molto noto, insomma quasi imprescindibile, ma da solo forse varrebbe la visita agli uffizi, quindi questo non sarà una sorpresa per voi. ed è l'annunciazione di Leonardo da Vinci. Questa annunciazione necessita di un'informazione, che non è un'informazione da poco, perché Leonardo da Vinci dipinse questo quadro, piuttosto anche grande, come dimensioni, che aveva nemmeno vent'anni, diciannove anni e mezzo probabilmente. Quindi voi vi immaginate un ragazzo, insomma, non ancora maturo, che dipinge questa roba qua. Cioè, insomma, e torniamo al discorso che facevamo prima sulla natura. Allora, c'è a Firenze un professore di botanica, che evidentemente non avendo altro da fare, si è preso la briga di studiare tutti i fiori e le piante che vedete in questa sorta di tappeto erboso. L'angelo plana su questa sorta di tappeto erboso, si ferma e annuncia alla Madonna. E tra lui e lei c'è questo prato fatto di decine e decine di piante e fiori. 86 lui ne ha contate. Alcune di queste non esistono nemmeno più, cioè sono state fermate da Leonardo da Vinci prima dell'estinzione. Però uno si chiede, gli hanno commissionato, perché ovviamente per questo tipo di opere c'era una commissione, nessuno si metteva a dipingere l'annunciazione. Io veniva commissionato da qualche ente religioso. Allora, ti commissionano l'annunciazione e te la dipinci in modo straordinario, ovviamente. Fai una Madonna bellissima, un angelo ancora più bello, con dei gesti delle mani, guardate i gesti delle mani dell'angelo. L'annunciazione è il verbo che si fa carne. Guardate come muove le mani l'angelo. E guardate come muove le mani lei, che sembra quasi che gli dica un attimo, che con una mano sembra quasi fermare la scena, e con l'altra appunto tiene il segno del libro che sta leggendo, quindi c'è un'interruzione. Il dipinto, diciamo, si ferma con questa sorta di interruzione. Però ecco, questo è il dipinto. Perché uno ci deve mettere 86 fiori e piante? Questo è un problema non da poco. Questi alberi poi, sullo sfondo, anche lì ci sono nove tipi di albero. Evidentemente, secondo me, Leonardo, anche qui, sentiva questo problema della natura. Una cosa è il discorso divino, però un'altra cosa è il discorso naturale. Sono come due piani che procedono in parallelo, che si incontrano spesso, ma non necessariamente, sono due mondi. E lui sente che la sua annunciazione sarebbe stata molto più forte e molto più ricca, ma non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista filosofico, se ci fossero stati tutti quei fiori, tutte quelle piante dipinti con questa maestria. Un'ultima cosa però da notare in questo dipinto, che spesso non si vede, è che se voi guardate alla vostra destra, alle spalle della Madonna, c'è una porta, una porta aperta. Questa porta fa intravedere, a malapena c'è un'ombra, un po' di luce che entra, c'è un'ombra, e c'è una sorta di trappo rosso, potrebbe essere una coperta appoggiata. Questo pezzetto qui è ancora, secondo me, una cosa ancora in più rispetto al tema del dipinto, ma qualcosa in più che ha un grande significato. Io fin da piccino, quando lo vedevo, devo dire che mi dava molta angoscia quella porta, quella porta succhiusa, con questo buio, con questo pezzo di coperta rossa, perché mi sembrava che lì ci fosse già rappresentato, questo non qua dovevo sei anni ovviamente, ma più avanti, però mi sembrava che fosse già lì rappresentato la conclusione di questa storia. Qui comincia una storia, e qual è la fine di questa storia? Certo, sì, c'è la resurrezione, ma prima della resurrezione c'è la morte. Da questi gesti a un certo punto produrranno la morte, come ogni vita poi finisce in una morte. E quella porta aperta così, secondo me, rappresenta proprio questo. In questa scena così alta, così perfetta, c'è come una sorta di apertura. Questo è, anche dal punto di vista della pittura, una cosa straordinaria. Cioè è come un taglio di fontana, come se il quadro si aprisse e noi che lo guardiamo venissimo catturati e portati oltre, portati da un'altra parte, in un'altra dimensione, la dimensione oltre la vita. Andiamo velocemente avanti. Questo è, anche questo è un quadro molto famoso, però è anche uno dei quadri più studiati e uno dei quadri meno, più, diciamo, misteriosi che sono presenti agli uffizi. È un quadro di Giovanni Bellini, pittore veneziano, Allegoria Sacra del 1490. E anche qui, secondo me, questo tema del rapporto fra mondo e natura è esplicitato molto efficacemente. Che cosa succede in questo quadro? Anzitutto c'è appunto una parte più vicina a noi che è questa sorta di terrazza, con questo pavimento bellissimo, e in questa terrazza, come su una scena teatrale, stanno avvenendo alcune cose. Alcune cose, tra l'altro, che è difficile metterle insieme l'una con l'altra. Perché, guardiamo, ci sono due signori con una specie di perizoma, uno vecchio e un altro giovane. Quello giovane, lo si capisce, è San Sebastiano, quello vecchio è Giobbe. Poi c'è nel mezzo un albero, un melograno. Il melograno simboleggia la vita. C'è un bambino che lo sta scuotendo e cascano dei melograni. E un altro bambino lo raccoglie e un altro l'ha già raccolto e ci gioca. Chi sono questi qua? Uno di questi è Gesù Cristo che gioca con Giovanni. Chissà. E poi si va più in là. C'è un uomo appoggiato alla balaustra, che potrebbe essere San Giuseppe. C'è San Paolo con la spada. Cosa sta facendo San Paolo con la spada? Questo uomo vestito di rosso. Sta cacciando un infedele. Guardate all'estremità del quadro. C'è un uomo che sta fuggendo con un turbante. C'è la Madonna in trono. Ci sono altre due donne vicine a lei. Poi c'è questa sorta di lago-fiume e di là c'è di nuovo una natura molto selvaggia se non per... Diciamo sì, è come se dall'altra parte del lago ci fosse un mondo difficile dove c'è un avamposto alla cristianità che è questa piccola cappellina che si vede giù sullo sfondo e nient'altro però. rocce, piante molto selvagge. Però la cosa, al di là dell'interpretazione che appunto è difficile di questa storia, questa allegoria appunto, la cosa interessante è la perfezione che Giovanni Bellini qui mostra. c'è un appunto del grande architetto Le Corbusier che visitò gli uffizi per la prima volta l'11 settembre del 1907 che rimase totalmente colpito da questa balaustra. Cioè questa balaustra per lui era la perfezione architettonica. Cioè nessun dipinto del Rinascimento scrive in questo suo appunto io ho visto questa perfezione architettonica. Questa è l'architettura. E anche questo è interessante come suggestione. Questo è un altro quadro molto famoso. È una Sacra Famiglia conosciuta però con un altro nome si chiama Tondodoni. Qui siamo già nella parte, diciamo sì, nella seconda parte nel secondo corridoio degli uffizi. Ed è un'opera di Michelangelo. Un'opera strana, molto strana. perché anzitutto nelle Sacre Famiglie dove c'è la Madonna, San Giuseppe e il bambino raramente si vede questo strano movimento. Cioè qui c'è una donna che sta facendo una torsione assolutamente naturale e sta come passando dietro le sue spalle un bambino ad un uomo più anziano con la barba. E questo è il primo problema. Perché lui ha rappresentato la Madonna, Gesù Bambino e San Giuseppe in questa strana posizione. E qui c'è un'altra questione che viene subito un'altra domanda che si dice perché sullo sfondo dietro a questa scena qua che è una scena sacra ci sono degli uomini nudi che si accarezzano e perché poi siccome il dipinto in realtà si intitola Sacra Famiglia con San Giovanni dov'è San Giovanni? Allora San Giovanni se lo vedete se lo guardate un po' bene è alla vostra destra quella specie di satiro che vedete spuntare dietro un muro nero queste pietre nere con questa specie di corona diciamo così di foglie e quest'area quasi da ubriaco sarà più un satiro che non Giovanni allora in ambito freudiano c'è un'interpretazione abbastanza suggestiva che dice che in realtà questo dipinto come spesso succedeva appunto avete visto prima quando parlavamo di Filippo Lippi spesso questi pittori raccontavano quello che gli veniva richiesto di raccontare però raccontando quello che gli veniva richiesto raccontavano la propria storia allora il tondo doni in realtà sarebbe il racconto della vita difficile di Michelangelo Michelangelo sappiamo che sua madre morì che lui era un bambino morì molto giovane sua madre e lui rimase solo con il padre quindi questa torsione naturale è l'innaturatezza del fatto di una donna che cessa di essere madre molto presto e il bambino appunto lo passa quindi a quest'uomo il bambino in realtà è molto riluttante non vuole sembra non volere essere passato dietro e questo uomo con quest'aria abbastanza burbera il padre di Michelangelo sappiamo che lo picchiava in continuazione cioè una infanzia con questo uomo molto violento e solo e l'interpretazione appunto che è stata data in ambito freudiano dagli allievi di Gombrich che è uno storico dell'arte che appunto si è avvalso dalle teorie di Freud per interpretare i dipinti dice che in fondo appunto questi giovani che si accarezzano sarebbe un'allusione all'omosessualità di Michelangelo cioè che in parte fu favorita anche da questo difficilissimo rapporto con il padre in realtà c'è un'altra interpretazione perché questa cosa degli uomini nudi sullo sfondo di un dipinto religioso non è una novità c'è appunto a Palazzo Pitti nella Galleria Palatina quindi nell'altra parte dall'altra parte dell'Arno c'è un dipinto di Luca Signorelli del 1490 quindi abbastanza vicino temporalmente a questo dipinto qua quindi c'è noi qui immaginiamo che Michelangelo lo avesse presente che si intitola Madonna con bambino tra gli ignudi è conosciuto con questo con questo titolo e gli uomini ignudi in realtà in Luca Signorelli rappresentano abbastanza esplicitamente le virtù ascetiche non hanno nulla di diciamo sì di peccaminoso sono gli uomini appunto che puri cioè non hanno bisogno di vestiti perché sono sono puri insomma comunque è un dipinto questo diciamo sì su cui diciamo si viene diciamo si chiamati a riflettere e a ragionare e arriviamo agli ultimi due dipinti perché si sta facendo tardi ecco questo qui è un dipinto che io ho scelto per varie ragioni anche diciamo sì un po' legate alla storia degli uffizi perché questo è un dipinto di Sebastiano del Piombo un pittore per molti secoli poco considerato invece oggi è un pittore che viene giustamente considerato tra i più grandi pittori e è la morte di Adamo del 1512 questo dipinto noi abbiamo rischiato di perderlo perché quando nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 ci fu l'attentato da bomba in via di Giorgofili che costò la vita a cinque persone che stavano in una casa attaccata agli uffizi l'onda d'urto distrusse diversi dipinti dieci dipinti sono irrecuperabili e anche questo dipinto fu seriamente compromesso però i restauratori hanno fatto i miracoli e ce l'hanno restituito nella sua bellezza però mi sembra quasi un dipinto diciamo sì che ha a che fare un po' con questa tragica drammatica storia di questa bomba che appunto ammazzò queste persone sotto gli uffizi qui cosa succede c'è la Venere che sta piangendo consolata da da Cupido sta piangendo Adone che lo vedete sdraiato lì per terra con questa questa piccola veste blu che è stato ucciso da un cinghiale ma e le compagne di Venere anche appunto la le tengono compagnia in questo dolore però la cosa interessante è che vedete sullo sfondo oltre l'acqua c'è dell'acqua e poi c'è un grande palazzo quel palazzo se guardate meglio è il palazzo di Doji a Venezia e quello quindi si può immaginare che qui siamo nell'isola di San Giorgio quello è il bacino di San Marco questo tratto di laguna che divide appunto la parte principale di Venezia dall'isola di fronte c'è un perché Venere perché l'etimologia di di Venezia era Venusia Venus cioè Venezia è la città di Venere insomma e questo quadro che ha questi colori anche molto plumberi se vogliamo non soltanto perché l'autore si chiama Del Piombo insomma però è un quadro appunto che rappresenta è come si prefigurasse già alla fine della città insomma di questa città così precaria che sta appunto sospesa sull'acqua ed è forte come immagine insomma io credo che sia un dipinto che abbiamo avuto la fortuna che si è salvato l'ultimo dipinto con quale vorrei concludere è di un altro pittore anche questo molto molto rivalutato soprattutto nel nostro secolo Pontormo Jacopo da Carrucci detto Pontormo era un Pontormo sapete che Ponte a Erme era è tutt'oggi un quartiere periferico di Empoli lui era originario di lì ed era un pittore diciamo sì che è stato in parte condizionato pesantemente dal suo carattere solitario tormentato dice Vasari che pure lo apprezzava diceva che era incontentabile e soprattutto c'era questo problema che lui si sentì tutta la vita schiacciato da Michelangelo cioè insomma rispetto alla grandezza di Michelangelo lui si sentiva assolutamente inadeguato e quindi questo lo tormentava continuamente lo faceva essere appunto irascibile malinconico eccetera eccetera questo dipinto è bellissimo per i suoi colori Pontormo uno dei primi a rivalutare Pontormo in Italia è stato questo grande critico studioso di storia dell'arte che era Longhi che insegnava all'università di Bologna e tra gli allievi di Longhi c'era Pierpaolo Pasolini e Pierpaolo Pasolini ha sempre detto che le lezioni di Longhi per lui furono fondamentali e se guardate un po' di quadri di Pontormo vedete che poi Pasolini quando soprattutto si è misurato con il cinema ha ripreso pari pari alcuni quadri insomma anche qui queste vesti nel Vangelo di Matteo ci sono proprio questi verdi e questi rossi c'è una citazione esplicite nel cinema di Pasolini da Pontormo questa è la scena di Emmaus Emmaus è uno degli episodi diciamo così dei Vangeli più affascinanti più belli anche per chi non è credente sapete che appunto Emmaus è una piccola località della Palestina Cristo è morto è risorto e se ne va a giro per la Palestina cioè cammina evidentemente tra l'altro questo è anche interessante e non è mai abbastanza approfondito evidentemente lui dopo morto e dopo essere risorto non è come prima perché non è come prima non è come prima perché a certo punto incontra alcuni suoi discepoli che non lo riconoscono quindi evidentemente c'è stata una trasfigurazione anche fisica di quest'uomo non lo riconoscono lo pensano che sia un mendicante un poveraccio e quindi lo invitano a cena e cominciano a mangiare continuano a ignorare che quest'uomo chi sia sono tristi dall'altro perché appunto è morto è morto il loro maestro e a un certo punto questo uomo si illumina prende un pezzo di pane e lo spezza e questo momento qui si manifesta dice i Vangeli si manifesta loro loro capiscono chi è a quel punto lo riconoscono ecco qui Pontormo è stato così intelligente così bravo da fermare l'immagine appunto un attimo prima qui loro ancora non l'hanno riconosciuto lui sta cominciando ad alzare la mano e ha il pezzo di pane ha il pane nell'altra mano e loro stanno mangiando c'è tra l'altro molta insistenza sugli utensili ci sono i bicchieri perfetti la canaffa di vino il pane i coltelli le bottiglie c'è questa idea appunto di un ritrovo intorno a questa tavola e lui tra un attimo dirà che lui non è morto che lui c'è ancora questo tema di Emmaus lo vedremo anche anche domani perché appunto uno dei quadri più belli di Brera è la scena di Emmaus di Caravaggio e vedremo come appunto come Caravaggio si interpreta in modo diverso questa questa scena e l'unica cosa diciamo sì che va detta per concludere è che quella sorta di triangolo che vedete sopra la testa di Cristo in realtà Pontormo non l'aveva dipinto il problema è che quando poi ci fu la controriforma uno dei principi della controriforma fu quello di rendere l'arte più intelligibile più comprensibile al popolo e quindi furono fatti tutta una serie di interventi sulle opere che già esistevano sia da una parte di censura quando le opere erano troppo esplicitamente appunto con nudi eccetera eccetera ma anche proprio di ulteriore diciamo sì arricchimento religioso quindi questo alone di luce che c'è sulla testa di Cristo viene diciamo sì spiegato perfezionato tra virgolette mettendoci il triangolino famoso con l'occhio di Dio cioè che è assolutamente folle rispetto al quadro al dipinto che abbiamo di fronte però la appunto l'ispirito della controforma si pensava che dovesse essere ancora più chiaro e questo dipinto diciamo sì appunto non è che conclude appunto gli uffizi insomma io appunto come avete visto ho fatto una brevissima carrellata è un museo appunto dove c'è una ricchezza di temi di sensibilità di storie perché appunto ogni dipinto è una storia insomma che è la storia di chi l'ha dipinto la storia di chi l'ha commissionato la storia che viene raccontata dentro e spesso sono più storie quindi secondo me la cosa bella da fare è anche appunto immaginare che ognuno di questi 1800 pezzi che vengano esposti e tra l'altro tenete conto che nei magazzini degli uffizi ci sono 4000 pezzi che non sono esposti e molto spesso sono pezzi bellissimi questo enorme ammasso di dipinti che poi la nostra memoria cioè la nostra memoria storica culturale eccetera noi dobbiamo cominciare appunto a arricchirle cioè noi che andiamo in questi musei dobbiamo arricchire secondo me con l'idea che qui ci sono tante storie raccontate che noi queste storie dobbiamo anche poi raccontarle ai nostri figli dobbiamo raccontarci tra noi ma insomma i musei solo così vivono altrimenti sono soltanto un'esposizione di immagini invece qui non ci sono solo immagini c'è c'è la vita ci sono i sentimenti le speranze le delusioni e queste sono raccontate sono raccontate in modo straordinario qui ci sono delle tecniche incredibili però ecco sono storie e domani se avrete voglia racconteremo quelle di Brera grazie